Lo sapete che esistono delle crepe per cani, ovviamente fatte con il finto cioccolato, che possono mangiare anche loro? Aspetta, Yuko, ancora non sono pronte! Vediamo insieme come prepararle. Avremo bisogno di 15 grammi di carruba, 100 grammi di yogurt greco, un po' d'acqua, 200 grammi di farina di riso ed infine due uova. Ok, adesso possiamo iniziare rompendo le due uova all'interno di una ciotola. Aggiungiamo poi la farina di riso e mischiamo il tutto con l'aiuto di una frusta. Ottenuto questo composto, sempre se non lo mangia prima la gatta, aggiungete un filo d'acqua, mischiate nuovamente ed ecco qua il vostro impasto per fare le crepe. Versatela adesso su una piastra bollente oppure in una semplice padella e una volta tutta la vostra crepe, giratela ed impiattatela. Infine andiamo a creare la nostra finta crema di cioccolata utilizzando lo yogurt greco e una bella spolverata di carruba. Beh, non so voi ma io la mangerei molto volentieri, sembra così deliziosa. Andiamo adesso a farcire la nostra crepe, si tranquilla Yuko, ti metterò abbondante e finto cioccolato. Dopodiché possiamo arrotolarla e dopo una bella spolverata di parmigiano oppure di cocco possiamo servirla. Et voilà! Ecco qua signorino, la sua crepe per cani. Spero sia di tuo gradimento, beh a vederti sembrerebbe che ti sia piaciuta molto, forse troppo.